ah che bello finalmente abbiamo trovato ho trovato un villaggio purtroppo oggi quello schifo di bastinchio non c'è però vorrei un po' esplorare questo villaggio e vediamo c'è un bastinchio dei villager nooo c'è un bastinchio dei villaggi dei villager no 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 mi sta simpatico mi sta simpatico vabbè comunque oggi abbiamo trovato qua manca una campana chi è che l'ha presa perché hai detto quella brutta parola e comunque non è questo non è qua la parte dove ci si dovrebbe essere calmato muto allora finalmente abbiamo trovato un villaggio e adesso ci rincontriamo quando abbiamo qualcosa che sazia non ti spado però ok bravo allora abbiamo trovato finalmente un villaggio e adesso lo saccheggiamo e ci rincontriamo quando abbiamo saccheggiato tutto perché sennò è troppo noioso vuole una spada o una mappa aia perché sennò è troppo non te l'ho dato sì scappo scappo oh mi ricordo no mi sta ammazzando sotterrati che è un bel lavoro per te ti sta bene ok vabbè ci rincontriamo quando abbiamo saccheggiato tutto ok adio allora siamo arrivati qui e abbiamo saccheggiato un po di roba uno stack 29 di carote 53 stack di blocchi di come si chiama di balle di balle di fieno poi ho trovato anche cose molto utili aspetti guarda quanto me ne lancio e slime ok prendi questa no grazie cambio eco e poi questi che ci servono magari potremmo fare un po di alberi anche la così se li abbiamo vicino a casa vorrei avere tutti gli alberi vicino a casa eh va bene guarda guarda ma guarda secondo te guarda questi sono 53 e quanti no aspetta no 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 non li trasformare li mettiamo li trasformiamo semmai un giorno a casa vieni ok volevo dirvi allora hai in mente questo progetto di fare un avamposto di fare laggiù c'è un avamposto di pillager proprio laggiù dove sto puntando c'è un avamposto di pillager laggiù io vorrei fare una farm non credo perché sennò ci scoppiano però io vorrei fare una farm più o meno dove ci sono quattro buchi dove ci sono dei villager in alto i villager verranno attratti dai villager andranno a cadere nei buchi e il buco sarà molto profondo che moriranno nella caduta guarda già che sono qui mi trasformo una spara in ferro io sono una spara in ferro così andiamo subito all'avamposto dei villager un'armatura però andiamo all'avamposto aspetta dormiamo qua così se moriamo quanto meno rispondiamo abbastanza vicino si è vero è vero è vero aspetta che qua c'è robina bruttina bruttina oh cavolo critico questo mi ha sparato via mamma mia ok l'ho ucciso andiamo 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 mi occupo giusto le spi io ce l'ho io vado in questa casa che c'è un letto ma ok era occupato basta che non li ammazzi ti prego no non li ho ammazzato l'ho fatto uscire l'ho fatto svegliare poverino era anche un contadino magari voleva riposarsi vai sto dormendo voleva riposarsi male perchè aveva tutto il giorno scavato la terra aspetta un attimo ok adesso abbiamo dormito non sbaccare il letto volevo fare un arco e forse ce la faccio a farlo aspetta che c'ho la cartella chi è? cosa? ma boh ho sentito un raro abbastanza che ho detto un ciao raffi una roba del genere boh così a caso ho detto qualcuno è entrato io non mi sono mai accorto vieni aspetta che mi craft un arco un signor arco no mi servono stick e vabbè spacco un blocco me ne servono due però ne spacco due due eh dobbiamo andare all'avamposta abbiamo pochissimo tempo è un attimo ho bisogno di un arco come faccio a combattere? non si parte mai senza l'arco eh ma non ce l'ho io l'arco ah si invece mi serve una stringa no ma io ce l'ho no ma io guarda io lo posso fare eh lo posso fare la faccio io l'arco si ma c'hai una stringa per me? eh una sola eh ce l'ho contato no felipe no per sbaglio no scusa mi si era bagato nell'inventario e vediamo per sbaglio che c'erano tre e noi due ah ok eh c'è un altro ragno è mio 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 vabbè partiremo senza no ne ha date due possiamo farci tre e due archi si vai piazza vieni qua che c'è la crafting ok eh toti ho una ok passa quanta vita hai tutta ce l'hai? quanto meno ok 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 quante frecci ho 9 tu ne hai? ne ho 7 va bene ok vado benissimo poi c'è troppo un po' i pillager quindi ok vieni 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 ci servirà un secchio di latte perchè poi se torniamo qua al villaggio facciamo le stracce cioè ce li ammazzano beh in realtà sarebbe una cosa buona eh no perchè eh no perchè noi facciamo il raid però non siamo ma siamo preparati per il raid c'ho una campana ci scoppiano no non è vero io lo farei ma non abbiamo le armature io farei la cavolata però dai io direi direi di fare guarda un po' di ferro io ce l'ho comunque per fare tu che armatura hai? eh io in pelle in pelle oh guarda c'è altra è già stassata oddio guarda quanta eh vabbè la prendo tutta io eh eh questa a me piace tantissimo non so il perchè ma a me piace eh io non vorrei fare il raid qua per un semplice motivo perchè non abbiamo ancora le armature in ferro e secondo me ci scoppiono ma io un po' di ferro ce l'ho guarda io ho già fatto il 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 leggings e e magari mi faccio anche dei piedini tu ti fai l'armatura la chestplate eh io non ne ho ferro eh si ne ho 12 io ah ok per una chestplate dei si quanto è la chestplate 9 allora vieni qua che qua io ho utilizzato da crafting dove sono io qua la chestplate è 8 vero si allora è giusti giusti guarda ma io non mi ricordo eh ah si è 8 precisi 8 precisi ecco decisamente meglio ok allora mi metto queste andiamo 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 cos'è quella cesta? ah c'era qualcosa che non ha lottato vieni io no perchè tanto erano cavolate vieni ok c'erano le patate però ok sei pronto sei pronto? comunque per fare questa farm bisognerebbe distruggere l'intero avamposto vedo già il capo dei pillager ok io lo brucerei poi l'avamposto per fare la farm ok ok sei pronto? vai vado alla carica aia oh cavo ho detto che ci scoppiano vai ucciso uno io uccido quello col mano al murio ok l'ho ucciso io l'ho ucciso io prendi le barre le bande ok eh curati un po' aspetta che aspetta che non avevo la canna portata di mano dove l'ho messa ma l'ho finita tutta ma sono l'ingordo del cacchio ok ok uccisi gli altri ok ucciso anch'io se riusciamo a liberare l'ingron golem possiamo fare eh ma non so se c'è eh di solito c'è sempre io vado a solutare ah c'è un tizio con una balesta incantata io vado a solutare oh mamma mia eh mi devi alpare sono morto sono morto scappo ok ok ucciso cavolo sono morto mi sa sali ok io vado a solutare lutta 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 vai su veloce no sono morto io mi rigenero e vado ci riesci a proteggere la mia roba? ehm aspetta ho trovato un libro risacca che apri il tridente ok benissimo benissimo ok ok arrivo arrivo vengo vengo quanto ci vuole te li sto facciando ora scendo ok ci sono quasi se riesci un attimo a uccidere senza prendere la mia roba uccidi tutti quelli lì che erano dalla capanna da una specie di capanna eccola vedo la vedo vedo la mia roba ok prendo un po' di roba ok ho preso tutto dovrei no ce la fai? no aiuto arrivo mi ha seccato pure a me vabbè io ho preso la ho preso tutto tranquillo arrivo ok ma io che cosa avevo detto graffa guarda che ci scoppiano evidentemente ci hanno scoppiato veramente si però guarda è rimasto solo questo ok l'ho ucciso se riesci a venire ho preso tutta la mia roba si si sto arrivando sto arrivando io pensavo visto che questo è isolato dagli alberi e ci rimanerebbero solamente i pezzi di cobblestone io ci do fuoco allora quindi ascia ci diamo fuoco raffa eh no 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 lo teniamo lo teniamo ma si però no vorrei tenere si ma comunque lo teniamo vabbè è che ci sarebbe più spazio così eh vabbè io me le ho tenuto c'è la balestra e c'è un sacco di roba tua comunque attento ti aiuto ti aiuto ti aiuto proteggimi dov'è la mia spada ucciso ok non ho più raid ah ecco neanche io meglio non so se è meglio o peggio perchè non lo troveremo mai sicuramente non lo troveremo mai più però vabbè vediamo se riesciamo a spawnare se riesci a spawnare un altro di quelli però non penso questo qua e buttiamo questo io sento qualcuno però non so ingaggiamo subito la spada si però se io non so salire le scale arco l'accendino ce l'ho? no non ce l'ho hai preso tutto vero? si vabbè io lascio mi prendo anche le cose un po' meno utili lascio la cobblestone ok io vorrei prendere gli standardi che ci sono in cima quindi io adesso li salgo mi vado a prendere i miei banner dove sono gli standardi? in cima si ma non ci sono perché non ci sono? no io lo sto controllando e non ci sono salgo anch'io adesso comunque ah ecco ah no è vero sono agli altri ok spacca tutto che così ce li prendiamo che fanno anche carino ok li abbiamo massacrati raffo eh si vedo io non me ne tornerei a casina guarda la c'era un golem laggiù guarda la c'era un golem si si l'hai visto? golem guarda la l'hai visto? ah che bello non lo vedo scende e vado a prendere i banner si che li sto buttando nella scatola o non ho lasciato niente? ah ho lasciato uno sacco di coca no l'ho lasciata io eh però io me lo prendo perché magari può servirle per chiudere quando tipo sei in situazioni scomodi come la scorsa volta che non sono morto per colpa di un tridente ruolo perché mi ero parato eh si io il golem non lo libero per un semplice motivo guarda ti spiego perché se lo liberiamo poi non spawnano più eeeh perché non me lo prende? ma what? c'ha il banner nell'inventario ah è vero che non si possono portare più di uno cioè devi portare uno per slot veramente no si te lo giuro che faticaccia e allora non lo so butta tipo la vabbè io no ma ma what the fuck ma oggi il microsoft è buggatissimo perché? ma no a me me li fa usare due due per volta due per volta what vabbè ma io ho certe cose me le perdo quasi ma io ne ho tre no dammeli a me dammeli a me così prendi ne abbiamo quattro raffa tranquillo ne abbiamo quattro ok possiamo tornarci lì indietro ok c'hai tutte le coordinate che io ce l'ho sulla play e ce l'ho sul telefono no io non ce l'ho sul telefono ce l'ho sulla play eeeh ah ok dimmelo te che io ce l'ho la mappa no vai te perché ce l'ho anch'io la mappa perché sennò si toglie il video ok allora andiamo su foto dimmi esattamente allora eeeh le ultime quindi questo qua vi invio un attimo a gabriele una ma giusti l'ha di tanto per si ok eeeh oddio stanno spavolando altri pillager izz meno 7 izz ti stanno attaccando male izz 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 meno 7 aspetti ok mi devo raffa aspetta che mi chiudo dobbiamo andare comunque so più o meno dove dobbiamo andare di qua se riesci a prendere le zucche bene aspetta no 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 tanto ci sei mi a casa comunque credo no perché ce l'ho io le zucche non ci abbiamo niente vabbè però queste sono rintagliate aspetta ho un'idea intaglio anche queste così allora eeeh ti danno i 6 izz meno se eeeh izz 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 eeeh ripeto un attimo izz 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 Scappa Raffa scappa Ti dico di levare le Leviamo tutto quanto Sono qui Vieni Liberiamo l'iron golem Liberiamo l'iron golem Vai Liberalo ma è stupido Aia Vai iron golem Oh cavolo Ci muoio di nuovo Oswil cuori Mi hanno ucciso Se riesci a riprenderti la roba io mi sono nascosto Che mi hanno trovato Ok Bisogna tornare a casa Si prendi subito le cose E andiamoce Ho liberato l'iron golem dovrebbe tenerli occupati Forse non so neanche se l'iron golem Non ci riesce Però iron golem esci Perché sono tornato io Io sto cercando la roba un posto Perché di noce non si vede niente Eccolo iron golem Sta attaccando Eh vabbè Troppi pillager Troppi 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 Ce ne sono troppi Troppi È impossibile Sto arrivando Sto arrivando Poi però bisogna levare le gambe Cioè bisogna prendere Si Le varie viale tende Eh vabbè Troppi Stanno spawnando Stanno respawnando Tutti Allora io recupero la mia roba Molto veloce Creeper Ok ho trovato di nuovo il coso Ho trovato la maledizione Di nuovo Raffa dov'è Raffa dov'è È lì È lì la tua roba È dietro quella Capanetta Ti alpo Guarda che un cuore e mezzo Un cuore e due cuori eh Ok ucciso Eh cavolo c'è il king C'è il king No il golem sta morendo Via golem Eh vabbè c'è anche il ragno Che rompe Vai fuori Oh vai un po' combattere Ok maledizione uccisa Ok Di nuovo Hanno ucciso tutti C'è un ragno molto schifo qua Che mi vuole uccidere Ti alpo io Ma io non glielo permetto Vabbè l'ha ucciso l'aereo in golem Ti ha salvato Scappa che c'è altra gente C'è altri pillager Aspetta Stringhe Vabbè Ecco la mia roba Scappa Eh vabbè Ok Aspetta Scappiamo Scappiamo È meglio scappare Attento Ok Ok Prendi la tua roba Invece di sistemare l'inventario Scappa e basta Mi piace avere l'inventario in ordine Mi da fastidio quando non c'è l'inordine Adesso c'è il villa Il L'iron golem E vabbè Non ho la mira Attento eh Ok Stanno uccidendo l'iron golem Corri 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 Com'è Tarzan Eccoti C'è anche un creeper qua che rompe Oh fuck Mi sta anche per uccidere il creeper Prendi tutto Prendi tutto per favore Eh vabbè Hanno ucciso anche l'iron golem No è troppo È troppo impossibile Dobbiamo venire di giorno Vieni Vieni Guarda Vai a dormire Ok Adesso Sto dormendo Non è che spauna Respauna Dispauna la tua roba Dopo tre secondi Guarda Sì Vabbè Non per i secondi No vero Ecco guarda Ok Adesso prendiamo la roba E ce ne torniamo a casa Sono anche già i pillager No C'ho il raid C'ho il raid No Non ho partito Scappa 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 Scappa